La Rindalong è una composizione musicale che consiste nella trasposizione di un gioco numerico. L'aspetto fisico è importante soprattutto per quanto riguarda il primo ascolto, quello delle sinusoidi, dove le frequenze basse sono la base portante dell'installazione. La Rindalong è una composizione musicale che consiste nella trasposizione di un gioco numerico.